Aspetta! Quill! Stai facendo qualcosa di stupido e sconsiderato! Più o meno! Thanos vuole ancora il cubo, può essere molto pericoloso! Non deve metterci le mani! Facci entrare e ti aiuteremo! Non posso! Sono io la chiave, non c'è altra via! No! Non ti teletrasporterai nel buco nero più vicino! Mi senti, Quill! Muoviti! Andiamo! La vendetta non mi sarà negata! No, a te sarà negata la pieta! Mi serva da esempio a chi si è opposto al volere di Thanos! Ah, l'hai voluto tu! Non ti ingesterai nel buco nero davanti a me! Eh? Override telecinetico! Molto più efficace di un'esplosione! Nowhere sta evitando che si teletrasporti! Perché? Quill non usa Continuum Cortex come teletrasporto! Lo usa come cervello! Cioè cerca di guidare la testa gigante? Esattamente! Sarò metà umano! Ma sono tutto eroe! Io sono Groot! Non ne ho proprio idea! Annientateli tutti! Senza alcuna pietà! Ok, gli farò girare la testa! Io sono Groot! Non riesco a controllarlo! Sei sempre stato un pilota del cavolo! Tu sai fare di meglio? Noi sappiamo fare di meglio! Ah! 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 Sinistra! Sinistra! Alla tua sinistra! Non dirmi cosa fare! Ora basta litigare! O metto questo capazzone a testa in giù! Tranquilli! Cosmo ha idea! Deviare campo teletrasporto di Cortex a esterno! È una di quelle volte in cui abbiamo una sola possibilità! Da! Imposto coordinate! No! No!